Ciao a tutti cari amici di Segno della Vergine, eccoci qui in mia compagnia per conoscere le vostre previsioni, il vostro roscopo per la settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 aprile 2022, ben ritrovati cari amici di Segno della Vergine, vi dico che queste sono energie generali quindi non possono valere per tutti voi, per quelli ci sono i miei consulti privati di cartomanzia, ce ne sono per tutti i tipi, ho anche ampliato la mia cerchia di consulti, sono anche ad hoc proprio per voi in base anche alla vostra situazione, alla vostra domanda e se avete domandi perché ci sono anche quei consulti che anche non presuppongono delle domande precise e mirate, quindi capite un attimino anche in base alla situazione che comunque state affrontando, qual è il consulto diciamo cucito per voi, quindi vi rimando al mio profilo Instagram e Facebook il Tarot Mano, il Tarot Man e vi lascio qui sotto tutto nel box di informazioni, se vi va iscrivetevi al canale attivando le notifiche su tutte attraverso la campanella in alto a destra, grazie grazie grazie, incominciamo già, selezionate le varie carte per voi per questa settimana, vediamo la prima carta e poi ovviamente faccio i collegamenti come sempre, carta numero 10, confusione mentale, il mago, essere coerenti con se stessi, l'erenita, carta 9 degli arcani maggiori, poi abbiamo questa donna castana, quindi è una carta figura, quindi ho pescato un'altra carta in collegamento con questa donna castana, abbiamo la carta della realizzazione, carta 17, ok, allora incominciamo, qui allora prima di tutto abbiamo la carta iniziale che è la carta della confusione mentale, qui ci sarà un po' appunto di confusione e anche di diciamo agitazione mentale, ci saranno molti pensieri che vi attaglieranno durante questa settimana, ok, però allora secondo me qui i pensieri ci saranno e potreste anche essere un po' confusi nei riguardi di una scelta che dovete fare, nei riguardi di un rapporto qualunque esso sia o anche di una situazione generale, ok, qui sicuramente carta dell'eremita, una carta di riflessione, trovare le risposte alle vostre domande, prendere comunque del tempo per riflettere e capire anche che cosa fare, cosa dire, cosa non dire, come muovervi, in che direzione comunque appunto incominciare ad incamminarvi, questa carta che poi è legata alla lucciola, tutto quello che fa luce, dovete fare anche luce, dovete fare chiarezza dentro di voi in una o più situazioni, concediti del tempo per la contemplazione, la solitudine e l'introspezione, guida con la tua luce chi è in cammino verso l'illuminazione spirituale, quindi qua ripeto dovete sicuramente far luce su una determinata faccenda, su una determinata situazione e cercare proprio di sgomberare tutte queste nuvole, ok, dalla vostra testa, ok, quindi questo è il primissimo messaggio che voglio darvi le carte. Abbiamo la carta del mago, il mago è la carta numero uno, quindi se avete in ballo un qualcosa da iniziare, quindi totalmente di nuovo, oppure nel portare avanti uno o più progetti, qui sicuramente siete sulla buona strada, ok, perché sicuramente c'è la vostra volontà di mettervi in gioco, di mettervi in discussione in uno o più campi della vostra vita, c'è comunque tempo di slancio creativo per creare quello che volete, nei vostri rapporti, sul lavoro e anche in generale, anche da puntista proprio di sfera privata vostra, anche nel vostro intimo, nel vostro profondo. Quindi qui c'è il fatto di buttarsi, ok, e senza diciamo pensare troppo alle conseguenze, ok, quindi sicuramente buttatevi in questa situazione, ok. L'importante è che non dovete farvi manipolare dalle altre persone, persone che magari sono già nella vostra vita, oppure magari persone che incontrerete proprio durante questa settimana. Una cosa importante, come vi dice anche questa carta centrale, è la coerenza. La coerenza ovviamente in primis da parte vostra. Siate coerenti, quindi è importante che non è che dovete pensare a una cosa e poi fare tone per bidone, perché questo non è coerenza. Se portate avanti un'idea, quindi se pensate a un qualcosa, ok, dopo averci comunque riflettuto, meditato, poi non è che dopo all'ultimo, voilà, cambiate le carte in tavola, girate la frittata solo perché magari siete insicuri o siete confusi. No, cercate di valutare attentamente e poi portate avanti e concretizzate le vostre idee, ok. Questo è una cosa importante, quindi la coerenza dovete comunque ritrovarla dentro di voi, ok. Poi un altro messaggio che voglio darvi, montarvi le ultime carte è quello che magari durante questa settimana avrete a che fare con una donna castana. Quindi qua pensate a una donna, ovviamente potrebbe essere anche una figura femminile con la quale vi approccerete durante questa settimana che magari non conoscete. Ovviamente qua sono energie generali, non è che posso dirvi la data di nascita, il nome e cognome della persona, anche perché non è questo il mio scopo. Qua comunque c'è un approccio interessante dal punto di vista lavorativo, progettuale, amoroso, di conoscenza, anche dal punto di vista familiare. Quindi vi approccerete con questa figura e questa donna vi potrà indirizzare verso la strada in più consola per voi e è una persona importante che vi potrà far realizzare un qualcosa di davvero bello. Oppure potrebbe essere una donna che si approccerà a voi perché magari è interessata a voi. Quindi qua potrebbe lei fare centro e fare brezza nel vostro cuore, soprattutto ovviamente se si tratta di campo amoroso. Quindi qua diciamo che queste sono le energie per voi del Signore della Vergine. Vi ricordo che se volete approfondire una situazione, una tematica vostra personale, vi consiglio caldamente di approfittarne dei miei consulti privati. che possono avvenire sia in modalità scritta sia attraverso un video registrato che poi ovviamente vi invierò dopo appunto averlo editato. Ok? Benissimo cari amici, queste sono le vostre previsioni per questa settimana. Ciao a tutte e alla prossima!